Scegli TVSAT, la nuova TV digitale satellitare. Vedrai gratuitamente e per sempre centinaia di canali TV e radio in alta qualità, di cui oltre 70 sono in 4K e in HD. Con un decoder o una camma HD o 4K puoi sfruttare al massimo la tecnologia del tuo TV e vedere gratis e per sempre in altissima definizione. Un esempio? Con TVSAT avrai a disposizione tutta l'offerta dei canali RAI in HD, film, fiction, documentari, persino i cartoni di RAI Yo-Yo e RAI GUM sono in HD. Tutti, sempre al solito numero del tuo telecomando. Su TVSAT i primi 9 tasti del telecomando sono tutti in HD da RAI 1 a 9. E poi ancora tutti i canali del gruppo Discovery. Dal numero 70 del telecomando trovi anche tantissimi canali di news e internazionali disponibili in inglese, francese e persino arabo e coreano. Non ti basta? Allora ti aspettano anche tutti i canali Medias in HD per un'offerta gratuita che è la più basta in Europa. Non finisce qui, hai tanti canali che puoi vedere solo su TVSAT. La musica classica e jazz di Mezzo. L'informazione regionale con tutti i 23 canali del TGR RAI e il 4K gratuito di TVSAT. Sette canali senza alcun abbonamento. Un canale dedicato al fitness, uno ai viaggi, uno di arte, uno di scienza, uno di moda e in esclusiva assoluta RAI 4K. Il canale RAI che manda in onda le migliori serie TV RAI, i documentari di Alberto Angela e gli eventi sportivi più importanti nel formato 4K. Cosa aspetti? Se possiedi un TV 4K di ultima generazione, ti basta avere una cam TVSAT per accedere al 4K gratuito e a tutti i 180 canali radio e TV. Stai acquistando un nuovo TV? Scegli un prodotto a prova di futuro con il bollino la TV 4K e sfruttalo al meglio con TVSAT. Potrai vedere tanti canali HD e 4K senza alcun abbonamento su TVSAT e avrai a disposizione anche il digitale terrestre di seconda generazione e la TV via internet. Entra nella TV del futuro.